Associazionismo, cultura, impegno sociale e aggregativo. Assisi, la sua storia, i suoi personaggi che l'hanno caratterizzata, le sue tradizioni. In questi anni hanno raccontato curiosità e aneddoti della città, con sapere e passione. Oggi ho il piacere e l'onore di avere con me in studio, il presidente del circolo culturale del Subasio, l'avvocato Gino Costanzi, e il dottor Giuseppe Di Biagio, esperto di storia assisiade. Avvocato Gino Costanzi, un conoscitore, ampio conoscitore. Quello che le chiedo non è scontato, una panoramica su quando nacque e ciò che fa sull'attività del circolo del Subasio. Volentieri. Il circolo del Subasio è stato fondato da un gruppo di nobili assisanni nel 1865. Tanto è vero che nel 2015 abbiamo festeggiato il centocinquantenario della nascita. Come lo abbiamo festeggiato e come lo abbiamo ricordato? Non certo scrivendo un libro come si fa sempre, dove tu hai fatto questo, quello è stato più bravo, io ho fatto questo, ma guarda quante cose abbiamo fatto. Abbiamo festeggiato a questa ricorrenza il restaurante in Ponte Grande. Ponte Grande che è un'opera dei maestri Cobacini, quindi è un'opera d'arte che bisognerebbe andare a vedere prima di arrivare a Ponte Grande, proprio prima, cento metri prima, sulla destra, perché adesso si passa sulla strada, che è diversa. C'è questo ponte bellissimo, i bambini vanno tenuti per mano perché le protezioni sono di 50-60 cm. E abbiamo restaurato questo ponte con una gran festa, sono intervjuuti 250-300 persone, veramente è finita una porchetta, 50-80 pizze, non so. Però prevedendo questa domanda, io mi sono portato un po' di appunti così, eccetera, perché sennò poi capisci velocemente. In questo momento il Circo del Suvasio ha all'attivo 27 pubblicazioni, che non sono cose di poco momento. 27 pubblicazioni di cui 10 afferiscono a vie, vicoli e piazze di Assisi, un'idea che è nata in qualcuno di noi nel 2005. Nel 2007 abbiamo donato alla cittadinanza il primo quaderno. Questi quaderni ne sono 10, li abbiamo conclusi quest'anno con via Santa Maria delle Rose e via Capobove. Pubblicazioni importanti del Circo, per rimanere pubblicazioni, insomma ci abbiamo nel 2006, no ma ne voglio citare almeno due, Assisi Jorgensen e il professor Santucci nel 50 anni della morte. Questo volume naturalmente sta anche in Danimarca, sono venuti i danesi, anche i parenti, i presidenti di vari circoli danesi a quella manifestazione. E un altro bellissimo, Arnaldo Fortini e Assisi, memoria che vive nel 40 annale della scomparsa. Siamo, che ti posso dire, noi facciamo tante mostre, tanti concerti, tante conferenze e ringrazio sempre il dottor Di Biagio che è preziosissimo per la nostra città, anche Massimo Zupoli che è anche un consocio, il dottor Di Biagio non è un socio. Io direi che il Circo del Subasio ha una caratteristica credo nel suo DNA, quello di operare con le proprie forze, cioè non fa raccolte per poi distribuire e farsi bello, che ne so, queste cose non le facciamo. Se c'è da mettere mano alla tasca, cerchiamo di fare noi una domanda della dottoressa Mossutto che mi fece in una conferenza stampa del sindaco, perché dal 1979, dalla mia prima presidenza al circolo, abbiamo inventato la conferenza stampa del sindaco di Assisi ogni anno, quest'anno si tiene il 7 di aprile. I giornalisti, lo ricordiamo, vengono per fare il punto della situazione. No, no, ma nel corso del quale però ogni partecipante può fare una domanda al sindaco, il che è molto importante e anche significativo. Naturalmente le mostre ne abbiamo fatte diverse, Franco Ruffinelli era un nostro consocio e tornando da Siena gli promisi che avremmo fatto una mostra e poi lui ci ha lasciato, ma la mostra l'abbiamo fatta. Sergio Ceccarani, abbiamo fatto una bella mostra anche di Sergio Ceccarani che ci ha lasciato un anno fa, una bellissima mostra retrospettiva, l'ha organizzata alla moglie, noi abbiamo aiutato, ma veramente ha fatto, la moglie ha dedicato a questo suo compagno un volume bellissimo. Veramente ha dato molto questa donna, io ho visto assistere Sergio come pochi. La cena degli auguri la facciamo sempre in Assisi perché il circo è di Assisi e non mi passa neanche per la mente di fare la nostra sede alle Muse perché evidentemente le Muse sono di mia proprietà, non mi sembra neanche carino. Va bene, va bene, per ora va bene così, grazie. Ha già detto tantissimo su un'attività lunghissima, tutta incentrata sulla storia e sulla profonda cultura di Assisi e tra le conferenze che io stesso ho ricordato e che l'avvocato Gino Costanzi ha sottolineato, ce ne sono state alcune, tra cui l'ultima del dottor Giuseppe Di Biagio, apprezzatissima, in una sala della conciliazione gremita, gente in piedi, ha raccontato storie, curiosità ed aneddoti. Facciamole uscire anche dalla sala della conciliazione, che ci racconta il dottor Di Biagio? Il 17 febbraio c'è stata appunto questa conferenza dal titolo La toponomastica di Assisi racconta. Si è cercato di dare una descrizione delle denominazioni di alcune strade di Assisi. Si ha notizia che è dal 1500 che esistono delle strade dotate, cioè che hanno una denominazione. Questa usanza era diffusa nelle grandi città, poi lentamente si è diffusa anche nei piccoli centri e specie nella fine del Settecenti, prima dell'Ottocento. I nomi che venivano dati erano soprattutto relativi alle attività che venivano svolte in quei luoghi. e con l'Unità d'Italia però c'è stato un fiorire di intitolazioni legate al risorgimento. Nel 1871 la legge del censimento della popolazione decretò che bisognava nominare le vie e le strade per la prima volta e quindi seguì a questo poi un regolamento. Le strade delle città sono i più importanti luoghi pubblici e i suoi organi più vitali. Le strade sono come le persone, hanno un nome che le distingue dando loro un carattere ben preciso. Spesso portano anche i nomi delle persone. Sì, esatto. Nel preparare la conferenza sono emerse diverse curiosità e notizie che possiamo raccontare così qualche luna brevemente. Per esempio molti non sapevano che via Villamena si riferisse ad un personaggio Francesco. Pensavano che fosse invece una località che è nei pressi dei portaperlici. Francesco Villamena da giovane andò a Roma ed era abilissimo nel lavorare di Cesello e faceva delle incisioni bellissime, ha riprodotto quadri del Veronese, di Raffaello, di Giulio Romano e fece anche il frontespizio del saggiatore di Galileo Galilei. Ma l'opera più famosa di questo disegnatore è stata La baruffa di Brutobuono che è un avvenimento che accade all'inizio del 1600 a Roma. Era tra i famigli dei filo francesi contro quelli filo spagnoli e questi erano comandati diciamo da questo personaggio così grande, Nomone, il Brutobuono che però purtroppo perse la vita. Ma questa sua opera ebbe una grande risonanza, vendette tantissime copie, ma ebbe risonanza anche tra i pittori perché iniziarono a girare per Roma per riprodurre scene di vita popolare e tra cui fu il primo che era un olandese, un certo Peter van Lair, detto il bamboccio perché assumeva sempre delle espressioni curiose e poi se le faceva degli autoritratti e fu il primo a iniziare a girare per Roma. Un altro dei personaggi possiamo ricordare Pallarani che al quale è intitolato le scalette che sono in fondo al corso. Pallarani era nato a Perugia da genitori ignoti e gli fu dato il nome di Orcolano, il nome di uno dei patroni di Perugia e visse la fanciullezza presso l'ospedale degli esposti e quando uscì dopo un po' di tempo giunse ad Assisi dove piano piano si fece una posizione e aprì un negozio di tessuti. A quell'epoca non c'erano le confezioni come oggi quindi bisognava scegliere e comprare le le stoffe e poi portarle dal salto o dalla salta per fare confezionare gli abiti. I Pallarani gli affari andavano bene si sposò però non ebbero figli e fece tanta beneficenza perché non voleva che le persone soffressero come lui. Quando morì alla fine dell'ottocento ci fu un funerale al cattedrale e poi un corteo aperto dalla banda musicale dai reduci delle patrie battaglie a cui aveva partecipato anche il buon Ercolano e tantissima gente quasi tutto Assisi lo accompagnarono all'ultima dimora. Lui era proprietario di tre poderi uno lo regalò lo donò all'asilo invernale per i vecchi, un altro all'ospedale e uno all'istituto per cecchi e sordomuti. Un altro aneddoto? Possiamo ricordare ancora Buscatti. Vicolo Buscatti. Era un capopopolo si chiamava Daniele. Il 14 di marzo del 1848 il papa Pio IX concesse lo statuto e quindi ci fu grandi feste ci furono ma in Assisi però il popolo cominciò a mormorare perché il governatore proprio in quei giorni aveva affidato la privativa per la vendita del pan venale e il prezzo era lievitato più del pane stesso. Il 17 si ritrovarono in piazza una folla sotto il palazzo del governatore a protestare. Il 18 il numero dei dimostranti era aumentato e si spostarono a piazza alla caserma della guardia civica. Questi si ebbero paura e si chiusero dentro e cercarono di forzare le porte ma i militi spararono qualche fucilata. Il giorno dopo una mattina presero d'assalto di nuovo la caserma quando stavano per entrare per prendere appunto le armi e sopraggiunsero i riporti da Perugia e ci fu un fuggifuggi generale. Per cui molti 15 persone furono carcerate tra cui anche il nostro Buscatti Danilo Daniele. Un'altra per chiudere? Un'altra per chiudere abbiamo l'Aromatari per esempio. Medico famoso esercitò la professione a Venezia per oltre 50 anni, curò i doji. Lasciò uno studio sulla rabbia molto interessante. La rabbia era una malattia che si trasmette dal cane all'uomo e l'uomo muore con mezzo a dolori indescrivibili, tanto che molti si suicidano o vengono addirittura uccisi. Egli consigliava di cauterizzare la ferita e si andò avanti così certo. Poi scrisse un'epistola per far presente che lui sosteneva che le piante vengono generate dai semi. Mentre la teoria che circolava era che la germinazione era spontanea. Ebbe anche una disputa letteraria difendendo il Petrarca dalle accuse di Alessandro Tassoni, l'autore della Secchia da Pita. Lì la questione divenne piuttosto pesante, tanto che a un certo punto l'aromatari dovette cedere e lasciò perdere tutto. Quando morì nel 1660 nominò eredi i fratelli Angelini, del piccolo Angelini, perché erano i figli della sorella. Questa era una famiglia nobile di Assisi che si è astinta poi nel 1700 e ha dato parecchie persone importanti e letterati soprattutto. Il dottor Di Piaggio è un pozzo di cultura, sottolineo che è un amico e soprattutto a me Assisano personalmente affascina sentirlo parlare e sentirlo raccontare queste cose. Se mi consenti, gli aromatari abitavano in un casalino in fondo a via Fortini, prima della porta che immette su via San Francesco. Casalino che è stato distrutto insieme ad altri, lì c'è ancora lo stemma di aromatari su quella porta. Casalino che sarà distrutto insieme ad altri nel 1911 su progetto di canci perché furono tolti via tutti i casalini e costruito il grosso complesso che c'è adesso. Ad ora c'erano tanti ragazzi che si apprestavano al sacerdozio e adesso non ci sono più, non so quel complesso come andrà a finire, ma fu distrutto per questo. Quante sono le storie che ha raccontato alla sala della conciliazione, gli aneddoti, gli nomi, delle vie, i personaggi? Ha fatto una cosa veramente intelligente perché ha percorso le vie di Assisi, diciamo 25-30 e per ogni via ha raccontato il personaggio. Quindi veramente ci ha... I presenti tutti affascinati e i numerosi non sapevano tra tutte queste cose. No, e neanche io. Qualcuno, neanche lui, non si era scordato. Avvocato, torniamo all'attività. Gino Costanzi ha raccontato prima che ogni anno organizza alle Muse, all'Hotel Le Muse, la conferenza stampa. Alla sede del circolo. Alla sede del circolo. Un attimo, fammi precisare, nel 1900 c'è stato il terremoto e siamo tirati via dalla sede di Assisi, stavamo nel Palazzo Buonacquisti e il terremoto e poi la banca non ci ha rinnovato il contratto che scadeva. Insomma, poi abbiamo fatto una transazione con la banca e è finito così. E questo è successo dopo, quando io sono diventato presidente, perché nel 1999 il presidente del 1998, fino al 1998, era Ranaldi, c'era un consiglio direttivo, non si trovava il luogo in Assisi per il terremoto e il dottor Mancini, a rilegare il rappresentante delle Muse, fecero un contratto e il circo si trasferì alle Muse. Prego. Il sindaco Stefania Proietti, tempo fa, non lontanamente, l'aveva invitata in un certo qual modo ad un ritorno ad Assisi. C'è una concretezza che la sede del circolo possa ritornare ad Assisi, una speranza, oppure va bene così? In questo momento si può benissimo tornare in Assisi e ne ho parlato con la sindaca forse 8-10 mesi fa o un anno fa, non mi ricordo. Perché? Perché in pratica il gioco al circolo è finito. Il circolo organizzava non solo i soliti giochi per cui era famoso il circolo al centro, poi quegli giochi si sono sviliti, poker, ramino, eccetera, si giocava solo a burraco. Burraco significa fare tornei, significa uscire a mezzanotte e mezza leguna dal circolo e tante persone vengono da fuori. Ovviamente tornei in Assisi non credo che si possano fare perché al centro di Assisi e fuori Assisi non è un problema. Se al centro di Assisi non si parcheggia le macchine e problemi alle bus e tu arrivi con la macchina e scendi, c'era, adesso non c'è più, il portiere di notte che ti apriva la porta, ti offriva il caffè, ti portava il caffè al tavolo, c'era un certo servizio. Però devo precisare una cosa. Circa 20 anni fa, io sono diventato presidente nel 99 ancora, mi tengono lì. 20 anni fa ho avuto un incontro, non faccio i nomi. Si vede che ci sta benissimo dove stavo. Sì, non faccio i nomi, con il presidente dei commercianti e il presidente degli albergatori per avere e per prendere tutti insieme il Monte Frumentario. Il circolo aveva già messo gli occhi su una porzione, non il Monte Frumentario, il teatro a metà stasi, scusate. Il circolo aveva già messo gli occhi sulla porzione, due o tre incontri e però è saltato perché poi il circolo l'ha anche proposto, guardate, penso che potete allungare di un pernottamento quanto meno da Sisi perché al Monte Frumentario i commercianti e i albergatori possono offrire questo, quell'altro, eccetera. Uno spettacolo, una volta il Cane di Maggio, una volta il Muce, una volta un balletto, non era difficile. Purtroppo non c'è stata rispondenza, allora evidentemente non si sentiva bene questo, però mi sembrava una cosa intelligente come proposta. È saltato e siamo rimasti lì. Appunto perché se esci alle mezzanotte e mezzo ad Assisi e qualcuno porta via la borsetta a una signora senza farla cadere perché se cade abbiamo finito, non viene più nessuno al circolo perché non ci viene più nessuno. Ma adesso il circolo, siccome il gioco, questi torrenti pure non li facciamo più per il Covid, eccetera, ormai ci dedichiamo alla cultura, soprattutto alla cultura, evidentemente possiamo benissimo tornare ad Assisi. No, no, tornare ad Assisi tranquillamente. E di questo ne parlerò il 7 a voce alta con la sindaca, la quale ho già detto, dicevo, un anno fa, vi dico un po' se trovi qualcosa ad Assisi. Non credo che sia facile, però per noi va benissimo. Quindi possiamo dire che il circolo sta lavorando anche per tornare ad Assisi. Sì, però volevo aggiungere qualcosa. Per carità approfitta pure. Volevo dire che noi abbiamo chiuso, io ho chiuso una presidenza di otto anni, nel 1992, questo ci tengo a dirlo, perché tutto è esposto a Santa Chiara, il circolo ha restaurato la tonaca, l'abito e poi il mantello, più che il cappotto, di Santa Chiara. Ricordo un episodio che mi ha commosso, perché c'erano delle signore fiorentine che facevano questi restauri. Una volta la madre abbadessa, suor Chiara stoppa veramente un architetto, una persona eccezionale, eccezionale, e mi chiamò e mi disse, venga che l'abbiamo riservata una cosa, vado lì di fuga, mi dice, guarda lei per 40 secondi può toccare il mantello di Santa Chiara. Guarda, ancora mi commuovo, io sento lì, questo mantello era spessissimo, era solo pesante, perché naturalmente nel 1200, cosa poi non c'era mica lana particolare. Benissimo, avvocato il tempo è finito. Però sono stati 40 secondi che... Eccezionale, eccezionale, guarda. E abbiamo restaurato insieme con Rotary l'erbario del Guglieri, questo recentemente, mi pare 4-5 anni fa, 4 anni fa. E poi qualcuno ha fatto le fotografie di questo erbario, andatelo a vedere, se potete, perché sta al corso dove il dottor Di Biagio impera. Sì, sì, è veramente un personaggio eccezionale della nostra città, al quale dobbiamo sempre dire grazie, prima di salutarlo dobbiamo dire grazie e poi lo salutiamo. Questa è la verità. E lì andate a vedere queste erbarie, ci sono le erbe vere. Siamo nel 1666, il Guglieri era un notaio e aveva raccolto tutte queste erbe, messe su questo libro, pagina per pagina, che ancora ci sono. E abbiamo fatto le foto che distribuiamo così, eccetera. Penso che abbiamo detto tantissimo. Noi abbiamo fatto anche una bellissima sfilata di moda nel 1979, appena sono arrivato, abbiamo fatto una sfilata di moda, Pelle e Pellice, una sfilata di moda che abbiamo ripetuto successivamente, esclusivamente con l'opera dei soci, con i loro mezzi, con i gioielli, con gli abiti, con il punto assisi dei soci, e abbiamo fatto anche la prima asta di quadri in assisi al Circolo del Subasio nel 1979. Queste sono, non parliamo delle gite, perché naturalmente siamo stati sull'Etna, siamo stati ai Campi Freghei, abbiamo stati alla prima al San Carlo a Napoli, il nome della Rosa, siamo stati a Palermo, siamo stati a Catania, siamo stati a rivedere gli etruschi. E' un'attività profonda, perché lei ogni tanto la legge, ma non è che le legge tutte, se le ricorda tutte a memoria, tutto quello che ha fatto l'attività del Circolo del Subasio, se lo ricorda tutte, che significa? E poi tengo a ricordare, ci sarà anche un'altra donazione, Fiorella Angeli Cottier, è la figlia di Maceo, sposata da un ingegnere, un architetto a Ginevra, ha fatto una donazione speciale, direi, c'è una bacheca tutta sua, organizzata da una vaticanista di Roma, fatta venuta al Museo di San Francesco, ha donato dei pezzi precevolissimi. E adesso siamo sul punto, lei è sul punto, me ne sto occupando come circo, di fare una donazione alla cattedrale. Vabbè, insomma, io avrei tante altre cose da dire, ma mi pare che il tempo... Naturalmente abbiamo fatto nel 1979, abbiamo fatto subito, appena arrivato, il Carnevale dei Bambini, e quindi abbiamo avuto un successo enorme, perché, insomma, i bambini sono una cosa importante e portano anche gente, portano... Abbiamo ricordato, anni fa, Donaldo e Graziella Viterbi, per tutto quello che hanno fatto, e abbiamo... L'incontro era, Donaldo e Graziella parlano, raccontano. Veramente, questo è stato bellissimo. E abbiamo incontrato Muller, che sono la nipote di Muller, venuto a sentire questa conferenza. Nel 1982 abbiamo fatto un incontro alla tomba di Muller, siamo andati alcuni assisani a salutare Muller nella tomba. Approfitto della presenza di un ampio conoscitore della storia assisana, e anche delle feste legate alla cultura umbra e assisiate, perché siamo quasi a primavera, siamo alle porte del Calendimaggio. Da appassionato di Calendimaggio chiedo a chi vive questa festa da tantissimi anni, com'è cambiata la festa degli assisani, se ce lo può spiegare in breve tempo, dagli anni in cui... 50, 60, a salire. Da quando è stata creata, praticamente, perché è nata nel 54? Quest'anno sono 70 anni. La parte di sotto, il 3 marzo, ha festeggiato il settantesimo compleanno. Il Calendimaggio sulla carta, praticamente, non è cambiato niente, perché c'è il corteo del giorno, il corteo della sera, così è scritto, e le scende di parte. Ma i cortei non sono più cortei, come una volta che sfilavano. Oggi sono delle rappresentazioni teatrali, sì, in movimento, ma sono vere e proprie rappresentazioni, con una storia, con un recitato, soprattutto il giorno. La sera un po' di meno, perché c'è più l'effetto della luce. E le scene, anche queste, sono cambiate, si sono magari accresciute come storie, nella ricerca, soprattutto, di storie particolari, e facendo sempre riferimento ad essere più coerenti con l'epoca. Ecco, soprattutto questo. Quindi, la perfezione su questo già si è così. È cambiato anche il modo di viverlo? No, di viverlo no. No, assolutamente, perché la partecipazione ce n'è tanta. Quindi, sono molti giovani, giovanissimi, e persone anche più mature. C'è questo senso, così, mischiando le due, tre, quattro generazioni che ci sono. E si creano delle situazioni veramente interessanti, insomma. Che è quello il bello della festa che rega. Sì, sì. Avvocato Cino Costanzi, lei prima ci ha fatto un elenco infinito di iniziative che avete organizzato. Però ne voglio dire ancora due. Nei tanti. Le dica, le dica. Ne voglio dire ancora due. Sono due concerti che abbiamo donato alla città, grazie al coro Carini. Guardi di là, guardi. Sì, guardi. Veramente, abbiamo donato questi due concerti alla città. Cipriano Carini è il nome del coro. Sono venuti veramente con molta generosità. Graziosamente hanno offerto il coro. in due occasioni. Uno, per far tornare qualcuno in Assisi appena la pandemia. E abbiamo pensato a raccogliere i nomi di quelli che avevano segnato il loro nome e cognome. La mattonata. Ma rubato la domanda. Sulla mattonata. 65.000 firmatari. Sì, invece ne sono venuti 272. Però 272 non è per cui non c'è nessuno in Assisi. Con uno sconto del 20% per dormire in Assisi. Me la sono studiata. Sì, bravo. E con la visita da Rocca gratis. E la guida l'abbiamo offerta a noi del circolo. Un altro concerto è stato quello per raccogliere è l'unica volta in cui il circolo ha chiesto ha chiesto un'offerta per questo concerto per i 140 ucraini che erano arrivati ad Assisi. Erano ospiti di Don Cesare in qualche modo però non avevano le penne, i quaderni, i dubenti abbiamo tenuto questo concerto a offerta abbiamo raccolto quasi 1000 euro che sono serviti per questi 140 ucraini. È l'unica volta in cui il circolo ha chiesto. E allora per concludere ne raccontate tante di quello che è stato il passato e il recente passato. Qualcosa già bolle in pentola per prossimamente o piano piano? Ma guarda, prossimamente noi faremo una gita il 25-26 maggio a Pesaro che è la capitale della cultura di quest'anno e avremo il 26-17 anche uno spettacolo ci ha prenotato al Rossini così vediamo anche il teatro Rossini ma è più veloce il 12 maggio quando faremo noi ogni anno festeggiamo l'ascensione e anche quest'anno la festeggiamo e andremo a San Leonardo non so se sai dove sta San Leonardo sta alle montarelle sta sopra il monumento funebre che ha voluto fare Fortini per ricordare quando Francesco si è fermato tornando a Lucera e lì ha creato questo monumento nel 1226 proprio l'annata e quest'anno nel 1226 vediamo che succede comunque è Satriano e passeremo anche da lì a Satriano con Giuseppe Di Biagio ci saranno altri appuntamenti sì ci sono sicuramente altri appuntamenti perché lui fa fita di niente ma me ne ha chiesti Ciccossè perché nessuno gli è da spazio non è vero niente è preziosissimo spero di averlo almeno un'altra volta o due proprio nell'interesse della città che tutti e due amiamo allora il presidente del circolo culturale del Suasi mi permetterà di chiudere con il dottor Di Biagio quanto piacere c'è nel partecipare agli eventi organizzati dal circolo è piacevole veramente perché c'è tanta partecipazione da parte del pubblico e questo è quello che dà anche lo sprone ad illustrare ecco l'ultima per dire abbiamo fatto la bellezza di quasi 500 immagini e si è parlato su queste immagini che scorrevano veloce le facevo scorrere io ovviamente e i personaggi che abbiamo appunto illustrato erano circa una cinquantina 50 vie di assisi 50 personaggi tanti tanti adesso non li illustriamo tutti perché sennò non finiamo più poi comunque ci saranno altre occasioni per per continuarli a farli conoscere grazie il dottor Giuseppe Di Biagio ringrazio l'avvocato Gino Costanzi grazie a voi per la disponibilità grazie a voi e appuntamento grazie a tutti grazie a tutti